Il numero 4 Il pallone che viene gettato malamente Poi c'è questa conclusione da parte di Battisti E viene ripetita in rete La rete da parte di Palotti Ancora la Vito Sistena che prova con questo tiro Il gol splendido da parte di Colasanti Che ha trovato il Johnny Sul secondo palo Grande conclusione da parte di Colasanti